Il mondo del facility riguarda tutti quei servizi che le aziende del nostro settore eroga nei confronti di committenze pubbliche e private. Tutti quelli che sono servizi generali, quindi dai servizi di pulizia, portierato, arreverdi, gestione rifiuti, quindi servizi più soft, come chiamiamo noi, ai servizi anche manutentivi di conduzione, gestione e manutenzione impianti, servizi di ristorazione, ovvero tutti quei servizi che possono essere esternalizzati da parte di un committente. Il processo ha visto negli ultimi anni, parliamo anche di 20 o 30 anni, veder crescere le nostre aziende andando a diversificare sempre più i servizi erogati. Prima questi servizi venivano addirittura internalizzati all'interno dei nostri committenti, poi è nato il processo di outsourcing, ovvero la committenza privata o pubblica che sia ha iniziato a esternalizzare questi servizi verso il mondo privato delle imprese del nostro settore. Le imprese del nostro settore quindi hanno iniziato a derogare in vari servizi, perché poi sono servizi trasversali, parliamo del settore pubblico, il settore privato, il settore ospedaliero, la scuola, parliamo veramente di servizi di facility a 360 gradi, hanno diversificato i servizi offerti e i clienti serviti. Abbiamo ancora una grossa polverizzazione sia della domanda che dell'offerta. In Italia si contano più di 23.000 aziende solo per il settore, ad esempio, del cleaning professionale, che conta 500.000 addetti. Il mondo del facility è un mondo veramente però di grande opportunità. Contiamo più di 130 miliardi all'anno di volume d'affari potenziali e un contributo quindi dell'8,3% al prodotto interno lordo, con una potenzialità di 2,5 milioni di occupati del settore. Ci stiamo soffermando sulla prima manutenzione che il governo ha voluto fare del codice degli appalti. Come sapete il codice degli appalti è uscito lo scorso aprile dell'anno scorso. Nella fase di attuazione ovviamente sta incontrando come sempre una serie di difficoltà. Ovviamente in questo poi contribuisce anche il ruolo importante che l'ANAC sta e deve svolgere all'interno del paese. Da qui la scelta di adottare ovviamente le linee guida e quindi di aiutare anche le imprese. Ecco, noi oggi stiamo cercando di capire cos'è che non ha funzionato. E credo che la mattinata è ricca di spunti e anche suggerimenti. Beh, perché noi siamo partiti da Bolzano dove siamo partiti con il nostro mantra che è l'industria 4.0. Noi abbiamo fatto introdurre dal ministro Calenda nel disegno di legge e poi nell'attività che anche ovviamente in Vitalia sta portando avanti il Fasili di 4.0. Cioè un investimento importante non solo per la manifattura ma per il mondo dei servizi. A Bari, nella seconda tappa, ci siamo soffermati in particolare sul problema delle esternalizzazioni. In una regione dove scelte politiche dissennate e disperate hanno fatto sì di distruggere un tessuto di imprese e di aziende che erano fortemente radicate sul territorio perché si è deciso di internalizzare questi servizi. Ad Arezzo ci siamo soffermati in particolare su quale è la collaborazione che ci sono con tante e una merita di imprese che vivono sul tessuto che per esempio sviluppano la rete d'impresa. Qui oggi invece a Torino, in particolare con la presenza del presidente d'Italia Decide, con cui l'ANIP ha stretto una alleanza, una joint venture, stiamo ragionando del codice degli appalti.